Volevo condividere con voi questo momento, ovvero l'uscita del brano Chico Forti, nato da un'iniziativa di Dorgio Paresi con la quale ho appunto collaborato. Questo progetto è un progetto speciale, è un progetto unico, dove ci abbiamo messo veramente il cuore e l'anima, perché va al di là della musica, il messaggio di questo brano ha lo scopo di diffondere e sostenere la vicenda di Chico Forti. Per questo io ci tengo e voglio ringraziare di cuore i familiari, i familiari e tutte quelle persone che da anni veramente dà una vita, e sono veramente tante, sono migliaia, si battono per chiedere giustizia per Chico Forti. Quindi quello che vi chiedo è di continuare a condividere, di continuare a diffondere, perché più siamo e più possiamo aiutare Chico Forti a tornare ad essere un uomo libero, quello che merita. Quindi grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.